Dovrebbe colpire la Terra il giorno di Pasqua entrando in atmosfera intorno alle 11.25 italiane. Questa è l'ultima stima dell'ASI sul rientro della stazione spaziale cinese in avaria, diffusa nel corso di un incontro tra il Dipartimento della Protezione Civile e i rappresentanti dei media. Abbiamo finestre temporali molto limitate e dunque, ha sottolineato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, se le ultime analisi confermeranno la possibilità che frammenti dei satellite possano interessare il nostro Paese, abbiamo l'esigenza di dare un'informazione più chiara possibile alla cittadinanza. Secondo gli esperti, la percentuale che il satellite possa impattare sull'Italia è dello 0,2% e la parte di territorio che potrebbe essere interessata va da Lampedusa all'Emilia Romagna. Per avere qualche certezza in più, bisognerà attendere solo 36 ore prima della caduta se avranno maggiori informazioni sull'area interessata. E nel caso fosse l'Italia, la conferma ci sarà con un preavviso sull'eventuale impatto attorno ai 40 minuti. Ma che cos'è esattamente questo oggetto che potrebbe colpire il pianeta? La stazione spaziale Tiangong 1 è il primo modulo sperimentale cinese ed è stata lanciata nel 2011 dal centro spaziale di Junquan nel deserto del Gobi. Il nome, in mandarino, significa Palazzo Celeste. Il ritorno sarebbe dovuto avvenire nell'Oceano Pacifico, ma nel marzo del 2016 è iniziata una lente progressiva discesa della stazione in modo incontrollato. Tiangong è stata pensata come laboratorio e stazione sperimentale per l'attracco di varie navette. La massa al lancio, 8.500 kg, incluso il propellente, si è progressivamente ridotta in quanto la vita operativa pianificata inizialmente in due anni è stata ampiamente superata. Grazie. Grazie.